La attrice Carrie Fisher, che nella saga di Guerre Stellari interpreta il ruolo della principessa Leila, pensate che è stata colpita da un attacco cardiaco mentre si trovava a bordo di un volo decollato dalla capitale inglese Londra, direi a Fosa negli Stati uniti dall'America. Grande paura in volo per l'attrice di nazionalità americana. La Fisher, dalle ricostruzioni della stampa americana, sarebbe stata colpita da un grave attacco di cuore poco prima dell'arrivo del volo nello scalo della California. Dopo l'attelagio, la famosa attrice americana, però, sarebbe stata portata prontamente in un'azienda sanitaria, quindi in una struttura sanitaria ospedale adeguata per l'occasione. Io vi ringrazio per l'ascolto, ma anche per la visione. Il video termina con la auto. Saluto e a presto.